Io ho fatto il corso a luglio e ho dato l'esame ad agosto di italiano per il recupero del debito e ho fatto l'esame orale su epica e narrativa dove ho preso otto e mezzo e l'ultimo voto che avevo preso in realtà a scuola era stato tipo sei, ma avevo studiato due giorni per quel sei, invece in nemmeno una settimana ho preso otto e mezzo con queste mappe qua e il metodo. Le differenze hai visto tra prima e dopo, Gabriele? È molto più semplice e più veloce perché come ho detto anche nella stanza dove ero prima, io che sono superiori mi danno tipo 30 pagine da studiare e sfogliarle una a una è anche più faticoso, invece con la mappa c'hai tutto lì e basta che giri lo sguardo e vedi tutto praticamente. E poi c'è la tecnica di memoria per memorizzarla, giusto? Beh, beh. Grazie.